Vi ritrovo qui dopo la live di Juventibus a parlare di Brescia Juve, un po' a mente fredda dopo aver già discusso con gli amici di Juventibus live, dopo una bellissima live su Twitch e dopo vi metterò alcuni spezzoni. Parliamo di questa partita che è iniziata subito male con delle dormite generali da parte della Juventus, con un gol subito che non dovevamo subire, con una mancata marcatura di Alexandro stretta su Donnarumma, con una papera di Cesni annessa e boom, il disastro è fatto. Vi ho parlato di un Brescia abbastanza solido a livello difensivo, una squadra che pensa tanto a difendersi e a ripartire, quasi non dando qualità a centro campo sulla costruzione di gioco, ma cercando di ripartire in fretta con le ali e con l'attacco. Ci hanno dato parecchi problemi questi ragazzi in contropiede, poi devo dire che dal ventesimo in poi non c'è stata proprio partita, se non sul finale due o tre minuti una reazione nervosa da parte del Brescia che voleva cercare a tutti i costi il pareggio, pareggio che giustamente non è arrivato. Tanti di voi vedranno la partita in base a quella che è la propria idea, qualcuno odierà questa Juve di Sarri perché è ancora incompleta, perché manchiamo ancora di tante piccole cose. Però devo dire una cosa, la Juventus ha migliorato tanto sulla gestione della partita nei 90 minuti, subiamo molto meno secondo me, anche se c'è da dire che alcune fasi di gioco vanno interpretate meglio, soprattutto quando magari siamo un po' più in difficoltà, anziché forzare le giocate sarebbe meglio cercare un possesso un po' più ragionato, tipo sul finale di partita e devo dire anche che tanti di voi invece esalteranno questa prestazione perché se magari stimate quello che sta facendo Sarri siete dell'idea che questa Juve poteva vincere 4-1. La verità sta nel mezzo, la verità sta nel fatto che certe partite possono finire con un vantaggio larghissimo, io ricordo l'anno scorso Parama-Juventus, tre pari, no? Quella partita ci andò male tutto, il Parama fece una gran partita, ordinata, tatticamente, ci mise in difficoltà, il Brescia ha interpretato questa partita allo stesso modo come quella là. Un Brescia ordinato che ha cercato di darci problemi, forte del fatto che comunque avevamo un vantaggio ridottissimo di un solo gol, poi sul finale ha cercato di farcene un'altra. Noi abbiamo mangiato parecchi gol davanti, dobbiamo migliorare tanto sulla fase di concretizzazione, ho visto il Rabiot parecchio in difficoltà, alla fine della partita è andato increscendo, nonostante ciò do comunque la palma del somario della partita sicuramente a Rabiot. Bene Paolo Di Bala che senza Ronaldo ha fatto vedere grandi cose, con i guain si trovano sicuramente ancora a meraviglia, Ramsey è stato lo stesso uno dei migliori della partita, io avevo delle perplessità su questo 4-3-1-2 proprio legate al fatto che la Juventus costruisse il gioco sempre per vie esterne e non avesse mai provato questo tipo di soluzione centrale. Invece devo dire che Ramsey tatticamente è perfetto per quel tipo di gioco, si trova lì sempre tra le linee dal fastidio agli avversari e in questo riesce in maniera brillante, ha dato parecchio fastidio alla difesa del Brescia che si è staccata parecchio in marcatura su di lui, creando spazi, creando opportunità, ha creato dei bellissimi fraseggi a un tocco. Ramsey è impressionante, mi auguro che possa trovare la solidità fisica per poi finire la stagione benissimo senza dover per forza andare ai box come spesso gli capita, però tutto sommato è una partita che la Juve ha gestito, non ha subito tanto. È vero, siamo andati in svantaggio, è vero che l'abbiamo ripresa con difficoltà, ma l'abbiamo ripresa, abbiamo rischiato anche di fare qualche altro gol. Ricordo un cross di Quadrado spizzata di Guain e che dirà che non ci arriva per un soffio, ricordo qualche miracolo di Joronen, una parata a due tempi involontaria di Joronen che sbatte a terra il pallone per caso e rimane là. Un autogol che poi non arriva a concludersi, nella palla non entra in gol perché oggi viene rischiato, il Brescia ha rischiato ben due autogol. Devo dire che è una Juve che mi è piaciuta, tutto sommato mi è piaciuta per l'interpretazione della gara, per la difficoltà, perché è una gara che va contestualizzata, messa in un turno infrasettimanale, tra partite complicate come quelle dell'Atletico Madrid, dispendiose fisicamente come quelle di Verona, come quella contro il Verona a Torino. Io non c'ero per quello che ho detto di Verona, mi è venuto così perché sono abbonato ma non sono potuto andare a quella partita. Che dire ragazzi, sono tre punti importanti, sono di quelle partite sporche che alla lunga fanno la differenza tra il vincere e il perdere un titolo. Quindi bene così, bene così, c'è da migliorare senz'altro, però visto tante cose positive io quelle metto in tasca, le cose negative si possono ancora aggiustare, siamo tutto sommato ancora a settembre, quindi ne abbiamo di tempo. Ditemi la vostra sotto nei commenti, ciao e sempre fino alla fine. Forza Juve!